Sono qui a Catanzaro per affermare una concezione dello Stato di diritto. Non facciamo confusione, ma facciamo chiarezza. Una cosa è la legittimità del risultato elettorale. Per questo noi non ci opporremo mai a nessuna richiesta di ricalcolo del voto. In alcune sezioni, in tutte le sezioni, dove si vuole. Un'altra cosa è invece il fatto che siano state compiute delle illegalità. Se queste sono state compiute da garantisti, lo dobbiamo usare il condizionale. Da chiunque sono state compiute, queste devono essere colpite, perché non solo sono dei reati, ma in questo momento sono anche dei reati contro la politica. E quindi noi certamente non staremo a difendere chi ha compiuto questi atti. Invitato in campagna elettorale dall'assessore Aiello.